Salve a tutti, in questo video vediamo come fare facilmente questo effetto fiamma con Adobe Photoshop CC. Quindi cancelliamo il livello 1 e cominciamo da 0. Allora aprite una vostra foto oppure create una vostra immagine con sfondo monocolore, dipende cosa avete intenzione di fare, e clicchiamo sullo strumento penna, questo qua. Allora creiamo un nuovo livello, qua giù, quindi tasto sinistro su crea nuovo livello, e qui facciamo il tracciato. Allora consiglio di fare un tracciato di questo tipo. Clic qua, un clic qua sotto, tenendo premuto però il sinistro in modo da poter curvare, vedete? Quindi lo curviamo così, lasciamo il mouse, facciamo un altro clic qua sotto, singolo, e poi clicchiamo qua tenendolo premuto e incurviamo. Ed ecco fatto, adesso chiudiamo il tracciato cliccando qua su in alto con il sinistro. Quindi abbiamo fatto questa specie di forma. Adesso possiamo muovere il tracciato cliccando qua su questa freccetta, che è la freccia della selezione tracciato. Possiamo spostare il tracciato dove vogliamo, ma la cosa più importante è fare adesso il filtro, rendering, fiamma. Il mio consiglio, se volete creare una fiamma in grado di essere spostata facilmente in tutte le parti dell'immagine, di stare attenti alla parte bassa e alta, che non ci siano parti mozzate. Nel caso cambiate i settaggi di base e di avanzate per fare una fiamma diversa. In questo caso è venuto tutto perfettamente, vedete qua su non c'è una parte spezzata nemmeno qua giù. Larghezza, qua possiamo scegliere la larghezza della fiamma. Vedete, in questo caso si va a spezzare qua e anche qua. Quindi per questo dico state attenti, vedete? Perché poi una fiamma di questo tipo va messa grande abbastanza da riempire sia qui che qui. Quindi facciamo una fiamma abbastanza piccola, in modo che rientri nelle dimensioni. Qua possiamo scegliere tante cose tipo, ad esempio, il tipo di fiamma, questo tipo. Lasciamo caricare. Ed ecco qua. Quindi questo potrebbe essere interessante fare un tracciato su una strada e fare l'effetto, non lo so, macchina che è passata, scia infuocata. Torno sulla prima fiamma, voi guardate pure le altre tipi di fiamme. Andiamo su avanzate, possiamo scegliere tante cosette, fra cui l'intensità, punte. Quindi tanti settaggi della fiamma. Opacità. Allineamento della base delle fiamme. Però vedete, se faccio così, si va a troncare qui e qui, quindi state attenti. Quindi lo riporto così. Quindi faccio ok in questo caso. Ed ecco la nostra fiamma. Il tracciato si può tranquillamente eliminare. Cance. E vedete, adesso io posso selezionare il livello 1, strumento sposta, e posso spostare tranquillamente questa fiamma. Posso ridimensionarla. E quindi adesso possiamo usare altri tracciati per creare altre fiamme. Bisogna sperimentare, perché non è facile creare una fiamma ben precisa. Bisogna sperimentare un po' i tracciati e come il filtro si comporta sul tracciato stesso. Comunque questo è il sistema per fare un effetto fiamma su Adobe Photoshop CC. Un saluto a tutti.